Come ti chiami? Giuseppe Dove abiti? Dorno Che emozioni hai quando prepari da mangiare per gli animatori? Sono entusiasta a farli avvelenare Sono entusiasta a farla mangiare a quei bambini Mi diverto Eh ragazzi con l'ailo sta di giro Proprio delle scamotte Giuseppe Butta la pasta Sono arrivati tutti E buttiamola sta pasta Specialità? Pasta al sugo Pasta a tonno Pasta panna e prosciutto Di tutto e di più Che sono contento di stare al santuario Mi rilasso Ho delle brave persone intorno Meno il furlano E vado avanti così E' pronta la pasta Ciao Ciao E' un huangio E' un play E' un play E' un play E' un play Ed è un play E' un play Mi saio anche la la corresponsabile posso allora al grasso mi piacerebbe fare o capo squadra o vice o comunque allora ciao iniziamo da quello più amato ovvero l'animazione che sono i vals anna e dylan allora vorrei i bans e poi non so comunque o una squadra avere una squadra con i bambini oppure no si avere una squadra con i bambini e i bans allora poi c'è l'animazione animazione comporta anche i bans quest'anno abbiamo deciso che io e la cate andiamo in pensione quindi staremo sotto il palco per gestire vari video su youtube io mi vergogno molto quindi abbiamo certo altre due ragazze due e basta che salgono sul palco ok saranno sempre quelle due lì a meno che non ci sono qualsiasi altro imprevisto però decideremo sì poi dopo spieghiamo bene anna e alice che non c'è ad un certo punto poi la soffi esce fuori con top amo non sono rimasti un po' lì così ma la parte bella è che poi è andata da padre angelo gli fa top amo come c'entra lei top amo posso farlo con le top amo top amo vuol dire grande amo e tipo è uno slang girl e lo si dice quando sei ferro di una persona capito quindi io sono ferro di te quindi top amo top amo top amo top amo la sua ferro di una persona mi ha fatto molto la sua non mi ha fatto un'altra non mi ha fatto un'altra non mi ha fatto un'altra ma dai di mano a me non mi ha fatto un'altra capo squadra insieme adesso puoi spiegare Sofì sono molto fiera di questo incarico ragazzi ma grandissima responsabile però preferivo fare i bans perché sai che io ballo sempre però bello ho sempre sognato di fare il capo sport fin da quando venivo qua la piccola grandissima che c'era tuo figlio è il mio capo sport votate me top amo Chiara Pizzardi Gaia e niente sono qua al buio tra le zanzare solo per voi per dirvi che sono contenta dell'onuolo e vi auguro buonanotte e e Dilan Mi piace molto il mio incarico è molto divertente e divertirò molto cosa fai la merenda e la farmacista stiamo andando fuori perché il refettorio non prende niente per iniziare il nostro meraviglioso caout vedremo cosa combineranno gli animatori nooo ma quindi io non devo usare e adesso lo usiamo vabbè pronti via cambiamo davanti ai bambini gli animatori possono discutere vero o falso qual è il vero o il vero falso rosso no ho detto vero fai il silenzio via vedo che se non sentite niente durante il pranzo gli animatori cosa fanno rosso servono i bambini blu parlano tra di loro giallo si prendono il piatto per sé prima dei bambini e verde stanno fuori dal refettorio rosso si blu no giallo può ballare a modo suo cosa vuol dire allora non li facevamo i bambini cioè ballo come vuoi ciao Paolo ma chi è un mezzo a casa? ora l'ho già fatto io animatore posso far fare tutti i bambini durante il film l'animatore può rosso dorme blu sta in mezzo ai bambini giallo disturba dorme dorme giallo muzie 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 Grazie per la visione!